La preghiera comune al Signore, tra gli splendidi mosaici della Cappella Redementoris Mater in Vaticano, perché ispiri il cammino verso l'unità, ha concluso l'incontro la scorsa settimana di Papa Francesco con sua Santità Aram I, cattolicos della Chiesa Armena Apostolica di Cilicia. Insieme al cattolico sato di Ecmia Zin, in piena comunione, ma indipendente dal punto di vista amministrativo, conta circa 6 milioni di fedeli in Armenia, Libano, Medio Oriente e in tutto il mondo. Aram I, cattolicos dal 1995, ha già incontrato Papa Giovanni Paolo II nel 1997 e Benedetto XVI nel 2008. Prima della preghiera comune, Papa Francesco e Aram I hanno avuto un colloquio privato e poi hanno raggiunto insieme la Sala Clementina. Qui, dopo il saluto dell'ospite, il Pontefice nel suo discorso ha ringraziato il Signore per le relazioni fraterne che ci uniscono e per il loro continuo progresso. Ha ricordato l'impegno personale del Cattolicos per la causa dell'unità dei cristiani e il suo qualificato contributo ai lavori della Commissione Mista di Dialogo tra la Chiesa Cattolica e le Chiese Ortodosse Orientali. Aram I, ai nostri microfoni. La Chiesa armena è sempre stata una Chiesa aperta, una Chiesa dalle ampie vedute e impegnata nell'unità ecclesiale visibile. In questo mondo i cristiani devono parlare con una voce sola, devono offrire una testimonianza univoca, devono essere uniti nell'affermare i valori del Vangelo davanti al mondo. Apprezzo veramente molto ciò che fa Sua Santità. Portare il Vangelo alla gente, accompagnare la Chiesa al di fuori delle sue mura, verso le persone. Questa è la Chiesa. La Chiesa è la comunità. La Chiesa dovrebbe essere, dalla parte dei sofferenti, schierarsi con la giustizia, contro l'ingiustizia, con i diritti umani, contro la loro violazione, con tutti gli oppressi. Questa è la vocazione della Chiesa. La Chiesa apostolica armena si è trovata costretta a diventare un popolo pellegrino, sperimentando così, in modo del tutto singolare, il proprio essere in cammino verso il Regno di Dio. La storia di emigrazione, persecuzione e martirio di così numerosi fideli ha lasciato ferite profonde nel cuore di tutti, di tutti gli armeni pure. Le dobbiamo vedere e venerare come ferite del corpo stesso di Cristo. Durante la prima guerra mondiale, un milione e mezzo di armeni sono stati assassinati, uccisi, nel contesto di un genocidio attentamente programmato e sistematicamente portato avanti dal governo turco-ottomano dell'epoca. Quello che vogliamo è prima di tutto il riconoscimento del genocidio armeno. Nessuno lo può negare. Si tratta di un fatto storico, per il quale chiediamo riconoscimento e riparazione. Si tratta di una questione di diritti umani, di giustizia e di dignità umana. Sono ferite che per il Papa sono causa di speranza e fiducia nella misericordia di Dio, la stessa di cui hanno bisogno i cristiani del Medio Oriente, soprattutto chi vive in zone martoriate dalla violenza. Come seguaci di Gesù, dobbiamo imparare a portare con umiltà gli uni i pezzi degli altri, aiutandoci così a vicenda ad essere più cristiani, più discepoli di Gesù. Camminiamo quindi insieme nella carità come Cristo ci ha amato e ha dato se stesso per noi, a tutti i nostri amici.